... Voglio anche comunque una garanzia che lo posso prendere il freno. Prima di partire adesso vado premunito, chiedo a capostazione, posso prendere il freno? Altrimenti comunque non parto, perché ho paura. Mi sento un po' ansioso, però c'è da superare questa cosa, perché bisogna, anzi secondo me adesso c'è più controllo, quindi per una cosa utile bisogna prenderlo lo stesso.